Ciao amici di una recensione, vi parlo oggi di Topolineide, un classico che uscì nel 62, costava ancora 200 lire quindi un fumetto che praticamente ormai ha 60 anni, che però risulta ancora molto attuale perché le storie presenti sono davvero molto molto belle. Guardiamola meglio insieme. Ed ecco dunque il bel volume con la copertina di Giuseppe Perego, mentre il retro è di Giovanni Battista Carpi che io preferisco tantissimo in generale, tra l'altro fa riferimento a una storia extra presente. Il volume è in prima edizione perché poi effettivamente fuoristampato anche circa 15 anni prima ma vi sono una serie di piccoli elementi che dimostrano che questa sia un'edizione in prima stampa come per esempio questa banalissima scritta qui dietro e poi anche l'Incipit che ovviamente è ancora in vecchissimo stile ovvero senza troppi ghirigori, semplicemente la data di uscita, l'edizione e qualche riconoscimento grafico e basta mentre nell'edizione quella più nuova, che poi si parla del 78, abbiamo un comparto redazionale un pochino più tecnico. Il fumetto lo voglio recensire per una serie di ragioni. Uno perché avendocelo è un peccato che io lo legga e tenga per me le considerazioni ma questa è un po' la filosofia che ho dei miei fumetti, provo a condividere. E due perché i classici Disney sono più o meno come quelli attuali A partire dagli autori presenti, da Perego, Chierchini, Martina, Carpi, Lockman, Gotterson e Walsh e non solo non sto dicendo che i classici attuali non mi piacciono perché gli autori presenti sono di pessima qualità o di bassa leva semplicemente sono un nostalgico. Per questo tipo di storie io preferisco prendere in mano un classico dei vecchi tempi seppur la formula me ne ha mai conquistato perché come quelli attuali si tratta di un prologo in questo caso magistralmente disegnato, vediamo se novinate, da Giuseppe Perego e scritto da Gian Giacomo Dalmasso che raccorda sia all'introduzione che tra una storia e l'altra le varie appunto storie come se fosse un unico grande racconto. Questo classico a me è piaciuto quindi ve lo voglio raccontare. Topolineide, il titolo in realtà è un pochino penso generico verrebbe da pensare all'Eneide di Virgilio, al poema epico di Virgilio ma non ha nulla a che fare se non per il fatto che può essere che Topolino viaggia molto in questo super racconto e quindi si ricordano un po' le gesta di Eneide. Mi piace anche molto la pulizia dell'albo io preferisco di gran lunga le cose semplici ed essenziali a differenza di quelle attuali che sono piene di scritte e piene di effetti grafici. Ancora un'ultima cosa che ci tengo a dire, la copertina mi piace molto, davvero tanto. Mi direte, ti piace più questo tipo di copertina o quelle attuali? Questo. Perché per quanto sia più essenziale, meno dettagliato, lo preferisco. Mi piace di più vedere uno sfondo monocromatico così, senza troppa profondità rispetto a quelle attuali, a volte un po' confusionarie, per quanto bellissime. Ma non dilunghiamoci oltre, starei a parlare per ora di questo fumetto ma insomma, il tempo è tiranno. Le storie sono le seguenti, Topolino e l'anello D, Topolino e l'incantesimo di Fonte Argento, Pippo e gli avventurosi antenati, Topolino e il piede della luce e Topolino e la scarpa magica. Tutte storie a tema topi, a partire dalla prima che è un prologo al Topolineide è una storia, insomma una frame story, ricordo, di Dalmasso Perego che vedremo sia all'inizio che durante le varie pagine di raccordo e in questo caso notiamo la classica di sfida, diciamo, sentimentale tra Topolino e Minni, cui Minni prova a far svagare Topolino ma Topolino dà dei velati due di picchia a Minni perché risponde in maniera sempre veloce e costante a basettoni e ai problemi che lo circondano, piuttosto che stare con Minni e questa è un po' di introduzione che più o meno farà da raccordo dico più o meno perché non è proprio così, nelle varie altre storie a me, ripeto, i prologhi piacciono, le storie di raccordo anche ma non sono un fan di questo tipo di formula, mi ripeto perché preferisco le storie normali che siano anche senza per forza un collegamento che risulta appunto forzato Topolino e l'anello di una bella storia che vede Pippo alla ricerca di, come sempre, mettere apposta su soffitta ricordo che la storia è di Guido Martina e Giulio Cherchini mi piace un sacco a me vedere il bianco e nero in scorsi video mi sono notificato che il bianco e nero non era una scelta diciamo puramente degli artisti disegnare sì e no, colorare pagina e pagina e no ma una scelta redazionale perché al tempo comunque riuscire a sfornare a 200 lire tanto poche che siano, non lo so presumo comunque competitivo come prezzo un po' a colore in bianco e nero era il massimo che si poteva chiedere negli anni 60 perlomeno agli inizi e la storia è molto bella un po' perché è di Martina un po' perché è di Cherchini un po' perché ci sono i topi in mezzo a un grande mistero a un grandissimo fraintendimento cerco di spiegarvela ma sarà difficile perché le storie di Martina sono sempre molto articolate non complicate ma comunque articolate ben strutturate insomma, Pippo trova un anello particolare nella soffitta che scoprirà in breve di riuscire a tramutare la persona che pensa nella sua testa con se stesso mi spiego con un esempio pratico Pippo vede Gianna Pansfield tra l'altro una signora che è scomparsa nel mentre Rebasettoni infatti era chiamato per questo Topolino Pippo inquadrandola con gli occhi riesce a immedesimarsi la sua mente in lei e la mente di lei in lui però in corpi differenti capitemi insomma Topolino adesso è con Gianna che in realtà è Pippo cioè la figura è di lei ma la mente è di Pippo spero di essermi fatto capire e questo enorme fraintendimento ovviamente non verrà capito dagli altri in primis da Minnie come può pensare di farla franca a Topolino vedendolo con una donna che però in realtà è Pippo e in Secondisi i vari Basettoni Pippo stesso insomma veramente un fraintendimento dopo l'altro che darà vita a un mistero ben più articolato di quello che si pensava inizialmente perché ricordiamo Basettoni chiamò Topolino solamente per cercare ritrovare Gianna Pansfield che tra l'altro fa riferimento a un'attrice veramente esistita ma di corta vita ovvero Jane Mearsfield che da quello che ho capito appare per la terza e ultima volta nelle pagine Disney perlomeno con Guido Martina quindi la storia io non so più altro cosa dire perché andrebbe letta ma è bellissima è divertente fa ridere a mio parere poi un'altra particolarità che ho molto apprezzato in quanto Topolino e Pippo vi è un frangente in cui anche loro si interscambiano e quindi Chierchini non solamente ha semplicemente dato la testa di Pippo a Topolino e viceversa ma ha reso Topolino anche graficamente un pochino più sornione questo non è Topolino è chiaro no? guardate gli occhi così stanchi così confusi così sulle nuvole ecco in realtà quello è Pippo e quindi Chierchini per me ha fatto un grandissimo lavoro anche in questo tipo di dettaglio perché è riuscito a rendere un Topolino un pochino più stupidotto come lo è appunto Pippo grande storia comunque divisa in due parti ma non si nota la differenza io tuttora non l'ho capita non so dove sia il punto di pausa della storia perché sarebbe divisa in due Topolino nel numero 188 e 189 ma il bello dei classici è non dare quasi mai una pausa se non appunto quando la seconda storia inizia eccola qui Topolino e l'incantismo di Fontargento ovviamente ancora qui qualche pagina di raccordo sempre di Dalmasso Perego una storia nuovamente di Martina questa seconda ma dei disegni a mio parere più graditi ovvero di Giovanni Battista Carpi un Carpi già in piena forma così come Martina alla sceneggiatura disegni bellissimi per me Carpi rende mille volte di più in bianco e nero ma ripeto non è che lui decideva se colorare o meno questa è una cosa che ho scoperto da poco ovviamente non è mai tardi per imparare ma era la redazione chi si occupava del colore non era Carpi in ogni caso o meno non sempre da quello che so ripeto i disegni sono bellissimi io Carpi penso sia il migliore disegnatore degli anni 60 e 70 finché poi non arriva Scarpa con i suoi massimi ovviamente Scarpa è il mio disegnatore preferito del vecchio millennio che poi darà le origini per me a Casti la storia è molto carina anche qui molto surreale molto fantastica Topolino e Pippo si ritrovano in questa casa in questo alloggio piuttosto malandato che Pippo ha vinto in eredità da un suo lontano zio e apparentemente sembra essere tutto spaisato insomma un luogo molto periferico privo di servizi primari ma sarà proprio la magia la surrealità a rendere questa storia particolarmente carina interessante infatti i due si svegliano a parte che Pippo per tutta la notte dorme con un serpente e questo solo Pippo può farlo insomma i due si svegliano e si ritrovano in un posto che non è quello che avevano visto il giorno prima chi c'è di tutto ciò ovviamente è una maghetta una tal argentina che tra l'altro una donna di cui io mi sono innamorato a livello ovviamente metaforico letterario per la sua presenza magistralmente disegnata ripeto da Carpi ed è una donna una ragazzina secondo me molto interessante non solo per l'aspetto ovviamente ma anche per il suo carattere la sua relazione con i due personaggi fantastica storia consiglio ovviamente la lettura una storia che trovate anche qua nel topolino 199 e quindi parliamo di fumetti molto molto retro all'insegna proprio della bella scuola dell'arte di Disney storia successiva Pippo e gli avventurosi antenati e qui si cambia totalmente genere ovviamente anche il raccordo fa in modo di cambiare un po' di prospettiva perché ora il protagonista diventa Pippo e Pippo riceve Gilberto Gilberto è un personaggio che negli ultimi anni è totalmente scomparso dai radar Disney del fumetto forse perché fa più parte della cinematografia dei cortometraggi però peccato io purtroppo da lettore non ho quasi mai letto la sua presenza perlomeno lettore simultaneo alle uscite quindi dal 2010 ad oggi non ho mai letto la sua presenza se non appunto in vecchie storie e questa semplicemente è una serie di piccole storie di Vic Lockman e Tony Stroble agli inchiostri Steve Stier che uscirono nei vari topolini di riferimento nel 1995 in poi ma in realtà fanno riferimento a sua volta a un'epoca differente di qualche anno prima in madre patria americana e c'è questo Gilberto super curioso di voler scoprire e conoscere l'albero genealogico di Pippo e Pippo ovviamente gli dà questa possibilità è una storia o meglio una serie di piccole storie sono 4 le parti o forse 5 ora lo scopriremo che in realtà non vengono per se manca considerazione nel famoso per così dire volume i bis 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 di Pippo ovvero quel fumetto che tra l'altro io cerco ma che ormai a tanti anni è stato esaurito peccato l'avrei comprato perché raccoglie un battellapesca che raccoglie una serie di storie sui bis bis insomma sui antenati i zii, i nonni i pro zii di Pippo e questa storia o meglio questa serie di storie non vengono considerate in quell'albo quindi ho avuto piacere a leggerle perché non le avevo mai lette e semplicemente sono delle piccole avventure piccoli racconti che Pippo racconta appunto chissà se in maniera surreale o diciamo veritiera per come gli vengono trasmesse ma questo non è importante dei vari antenati a partire proprio da un Pippo Cavaliere oppure a Buffalo Pippo eccola qui la storia California o morte una piccola storia Amazon West oppure il diario d'Africa con nonno Amos Pippus un personaggio che riesce a parlare con gli animali come per esempio con Giacomino il suo elefante e non solo anche con i noceronti con api e chi pinapia ne metta il re dell'arena con Ose Pippus lo zio più strampalato che ci sia secondo me per lo meno in questa serie di storie la storia che ho più preferito perché Pippo o meglio Ose ma di fatto come dice forse Pippo non capisce il motivo del perché un toro lo insegua e lui diventerà famoso perché riesce a tenere a bada un toro senza saperlo questo perché Ose non si rendeva conto di avere un fazzoletto rosso in tasca eccolo qua lo si può notare anche da questa vignetta e quindi viene un po' preso come eroe perché Ose è riuscito a sgominare questa paura questo timore è che i tori possono dar fastidio alla gente quindi questa è la storia che più preferito e così va avanti è una serie di piccoli racconti che però poi terminano con semplicemente un altro raccordo in cui Gilberto se ne va e Pippo riceve appunto una visita del postino che qui inizierà la nuova storia piccolo dettaglio che è giusto dire una volta per non ripetere talvolta sono stati anche cambiati i prologhi di introduzione e mi spiego questa didascalia che si figura in prima pagina della storia Topolino e l'imperatore della luce storia di Guido Martina e Chierchini anche qua divisa direi in due Topolino non è la stessa che troviamo nel Topolino di riferimento 193 ma vi faccio un piccolo paragone quella che è semplicemente ritoccata perché la didascalia presente è quella che avete sulla destra che è totalmente differente ma questo serviva e tuttora penso funzioni così per adeguare la storia al prologo e al raccordo appena letto anche qui grande storia in cui Pippo riceve inspiegabilmente improvvisamente una minaccia di morte quasi perché Pippo tra l'altro molto spaventato legge da una lettera ricevuta dal postino inizia storia che un tal José José Joe insomma Pelata questo è il suo cognome lo vuole far fuori ma attenzione Topolino se ne rende conto subito non vuole far fuori Pippo che noi conosciamo ma Pippo il dritto e chi è? è colui che viveva in quella casa 30 anni prima infatti si fa riferimento che viveva lì nel 28 quindi c'è pure questa contestualizzazione proprio reale del tempo che al tempo Martina ha voluto inserire e quindi bisognerà andare a scoprire uno chi fu Pippo il dritto due chi è Joe Pelata e tre cosa c'entra più in tutto ciò il tutto ruoterà attorno appunto a questa richiesta di Joe Pelata che ancora esiste al mondo ma attenzione non è detto che anche Pippo il dritto non esista e mi fermo qua alla ricerca di Lucciole Lucciole che al tempo Pippo il dritto aveva in qualche modo promesso a Joe Pelata grande storia grande storia di cui comunque così come i precedenti ho un po' fatica a sintetizzare perché il mio consiglio sarebbe leggetele e poi tornate qua e vi fate una vostra idea storie comunque molto lunghe circa 60 pagine anche qui io non noto la pausa non ci ho fatto veramente caso questo perché è stato proprio rimosso la classica istituzione il riassunto da una parte all'altra viene rimosto per proseguire con la lettura senza intoppi e arriviamo all'ultima meravigliosa storia Topolino e la scarpa magica una storia di Bill Walsh Bill Wright Gotterson e Dick Murph tutti e quattro insieme più appunto Gotterson perché è colui che non solo disegnava c'è pure inchiostra insomma è l'autore che più si ricorda ma ricordiamo che lo scrittore è stato anche Bill Walsh per esempio quindi talvolta si dà molto agio molto di complimenti a Gotterson ma insomma non era solamente lui a creare queste storie anche qua il raccordo in realtà è un pochino differente per chi ha letto questa storia perché Gotterson così come gli americani del tempo arrivavano a ipotizzare storie una dopo l'altra e quindi questa storia in realtà secondo la concezione originale di Gotterson di Walsh Wright eccetera arrivava subito dopo quella del topo grigio che è che sarebbe Miklos il nome originale è un personaggio vi lascio qui un'immagine identico o quasi al topo che si spaccia per lui ma molto più cattivo molto più arrogante e vigliacco quindi l'opposto di Topolino e alla fine di quella storia si tratta che Topolino per festeggiare un po' il ritorno a casa indenne insomma ebbe un gran singhiozzo un singhiozzo di cui Minnie dice a Topo appunto vatti a far curare non se ne può più e lo manda in Irlanda e da qui sa la storia in realtà appunto nel prologo non si parla del topo grigio non si parla di quello che è successo con Miklos ma semplicemente il topo ha avuto un singhiozzo di punto in bianco e quindi Minnie consiglia a lui di andare in Irlanda quindi capite a volte si andava anche ad adattare giustamente le storie precedenti ad esse soprattutto quelle americane che erano tutte collegate l'un con l'altra storia bellissima surreale fin da subito perché Topolino per prendere il treno in Irlanda già capisce che c'è qualcosa che non va infatti il treno deraglia ma continuano ad andare avanti e poi si rimette sulle rotaglie e già qui è un elemento un po' di magia c'è perlomeno secondo Wright e Gotterson finché poi non si ritrova appunto in Irlanda e non scova il signor Verde Verde è questo piccolo amico che fin da subito si impone al Topo come se fosse il re del mondo questo pensa di essere così solo che cosa succede mentre il signor Verde Verde vuole fare un incantesimo una magia a Topolino perde una scarpa e questa scarpa è fondamentale perché appunto è magica con questa scarpa il signor Verde Verde riusciva a creare qualsiasi cosa lui volesse il Topo ovviamente la scarpa non gliela riconsegna quindi la storia prosegue ma ha dell'incredibile tutto ciò perché in realtà la scarpa funziona Verde Verde ha un suo obiettivo vi sono gli abitanti della sua contea che non lo sapevano poi lo scopriranno insomma grandissima storia in pieno stile di Gotterson che a mio parere andrebbe letta in successione con quelle precedenti e leggendo quelle dopo ad oggi con Gotterson ancora non siamo arrivati a questa bella storia perché si tratta dell'anno 55 quindi penso che leggeremo questa storia fra un 3-4 anni nell'Ovnia però io già l'ho potuta leggere tutta colori o meglio quasi in realtà ricordiamo che sicuramente sarebbe più godibile la storia di Gotterson appunto in bianco e nero e su strisce molto meglio strutturate ecco qui per mancanza di spazio e per stampa di un fumetto molto piccolo le strisce sono su 3 righe e 2 vignette a riga mentre Gotterson ci ha abituato anche a botte di 5 o 6 vignette a riga quindi e questo è il fumetto Topolineido un fumetto comunque che consiglio se lo avete sappiate che avete un piccolo tesoretto di circa 30 euro nulla di più ma ovviamente il valore non è economico ma nelle storie di vari Martina Carpi in questo caso è Gotterson eccetera con questo video voglio dire che a me i classici non dispiacciono lo ripeto ma non li compro per un motivo economico principalmente e due per interessi non posso comprare tutte le testate che escono della Disney edicola i grandi classici i classici i paperinic i paperinic no scelgo quelle che io più ritengo sensate per me alla lettura o che comunque vanno a proseguire una collezione come il paperino o le GM detto ciò vi saluto e alla prossima ciao ciao